L'Università Gabriele D'Annunzio, Chieti Pescara e Innovale Open Innovation Hub hanno organizzato la prima edizione dello Start Camp, una settimana di formazione dedicata alla creazione di start-up innovative e allo sviluppo imprenditoriale. Le attività di formazione si sono svolte sotto la supervisione scientifica della professoressa Gilda Antonelli, docente di organizzazione aziendale al Dipartimento di Economia della D'Annunzio. I 30 candidati ammessi alla prima edizione hanno avuto modo di sviluppare in team costituiti ad hoc le idee innovative proprio di altri colleghi con l'obiettivo di trasformarle in imprese presentando le loro idee a esperti del settore. Una cosa molto interessante è che diventare imprenditori è una delle possibilità che i nostri ragazzi hanno. Non necessariamente bisogna andare a lavorare in qualche impresa ma mettersi in proprio è una grande opportunità. Quindi insegnare i ragazzi a mettersi in proprio è anche uno dei doveri dell'università a maggior ragione quando lo fa col territorio. I nostri ragazzi andranno dopo questo corso ad approfondire attraverso uno stage in 30 start-up innovative che sono le start-up che sono nate in questi anni da Start Camp attraverso uno stage formativo la loro idea e quindi anche che cosa significa sperimentare e anche cosa significa fare gli imprenditori innovativi. Quindi è una vera collaborazione tra università, territorio, imprese e anche associazioni. Quindi grazie a Innovallee per questo stimolo. Ascoltiamo Federico Fioriti che è direttore generale Innovallee. Pensiamo che le start-up e quindi le idee dei giovani siano uno dei più grandi motori di innovazione nel nostro territorio. E' un ragazzo che è disposto ad aprire un'impresa nel territorio per prima cosa decide di stare qui e quindi di rimanere nel nostro territorio e creare valore aggiunto nel nostro territorio. Seconda cosa vuole dimostrare che sa fare e che è capace di realizzare qualcosa di innovativo e quindi non troviamo modo migliore per convincere i nostri ragazzi a rimanere sul territorio. Siamo alla sesta edizione di Start Camp però già posso dire che con lo Start Camp sono emerse le idee tra le migliori in assoluto. Noi ne abbiamo viste forse 270 in questi anni però i ragazzi che hanno svolto questo corso e poi che hanno fatto questo lavoro di gruppo e che hanno realizzato queste idee perché per me già sono realizzate nel momento in cui le presentano mi stanno dimostrando che in effetti questo territorio ha ancora tantissimo da dire nel lato di innovazione e ha dei ragazzi che sono fantastici.